Alessia Adesso? No Questo coro quando è nato in? Del 1900 E sicuramente c'è una cosa per loro un po' tantissima Perché ci teneva tantissimo la tua mamma, vero? Sì Quanti anni avete? Voi siete in quanti? In? 17 Tutti due numeri sfortunati Comunque benissimo Siete in 17 Conta di quarta? 3 5 6 L'unico maschietto Non ci sono altri maschietti Ah ci sono quelle ragazze Venite pure anche voi Benissimo Allora dicevamo Quindi questo coro ha 8 metri Ed è diretto dal maestro Lo presentiamo diciamo C'è anche la tua sorellina qua Dov'è la tua sorellina? Eccola va Vieni parlo a cercare Tu mettiti la mia sinistra e la destra del pubblico Va bene vai Bene dall'altra parte Allora signore e signori Signore e signora Bambini e bambine Bambini e bambine Bambini e bambine Vi presentiamo Facendo attenzione Facendo attenzione Anche all'aspetto psicologico Ve lo presentiamo in modo veloce No Anzi non veloce Precipitevolissime volmente Il maestro Vieni Ah sei una sorella Vieni parlo Vieni parlo Anche tu sei sorella loro Sì sì Infatti la mamma non lo sa ma è una sorella Come ti chiami? Gari Gari infatti si vede che sei felice Dammi il 5 e il 5 Benissimo Iniziamo ad andare avanti Allora Dammi la mamma 5 e la mamma Sono felice Signori e signori il maestro E dici il nome è te Non ho detto maestro No 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 Tu il nome è ritorno Va bene Dammi Herrera Eccolo qua Un grande applauso al maestro Grazie maestro Lui è benissimo amaro maestro Tu non lo conoscete neanche lì perché mi dò Vieni qua No no Non lo scusco Grazie a Cor E a Magna E grazie a Magna Grazie a Magna